Si conclude la lunga storia di De Rossi con la Roma. Le strade si dividono dopo oltre 600 gare in giallorosso. L'Inter ieri vittoriosa sul Chievo punta sempre più su Conte. La firma dell'ex GT dovrebbe essere imminente salvo colpi di scena. Ingaggio di circa 8-9 milioni di euro più bonus. Lotta serrata in coda per restare in A. L'Empoli terz'ultimo in gran forma prova a fare il miracolo. Tremano, Genoa e Udinese ma anche Parma, Cagliari e Fiorentina. Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. L'addio di De Rossi alla Roma ma tanti altri temi nel corso della nostra trasmissione. Allora vado subito a salutare Lorenzo Di Benedetto. Buonasera. Ciao Lorenzo. Con la cravatta, lo avevi promesso e hai mantenuto la vita. L'avevo promesso. Saluta anche a Remoto Magistris. Ciao Lorenzo, buonasera. De Rossi e la Roma, le strade si dividono. Dopo oltre 600 partite De Rossi lascia la Roma. De Rossi che pensa di poter dare ancora qualcosa da giocatore. La Roma avrebbe sì trattenuto De Rossi però con un altro ruolo, con un altro incarico. De Rossi vuol continuare a giocare. In questi casi ci si chiede sempre se ci sia la giusta riconoscenza nei confronti di una bandiera però è anche vero che è difficile affrontare questioni così delicate anche per un club. Sì, anche in questa situazione devo dire la verità è venuta fuori tutta la personalità di De Rossi che è un personaggio molto attaccato alla Roma, un vero romano proprio come Totti ma è completamente diverso da Francesco Totti. Perché ieri la società gli ha comunicato di fatto la volontà di non rinnovare il contratto in scadenza a giugno e di fatto De Rossi l'ha accettata quella scelta senza montare polemiche. In effetti sulla tempistica si può discutere perché in tutti questi mesi magari la Roma poteva mandargli un messaggio più preciso. Poteva muoversi prima la Roma, questo senza alcun dubbio. Diciamo che i casi in casa Roma non sono mancati in questi mesi e questo sicuramente non ha agevolato una comunicazione anticipata a Daniele De Rossi anche perché la Roma è tuttora in corsa anche per il quarto posto. Però De Rossi ha semplicemente comunicato alla società che le sue idee ad oggi non collimano con quelle del club che voleva di fatto affiancarlo a Fienga il CEO della Roma per la prossima stagione. De Rossi si sente ancora un calciatore nonostante una stagione molto travagliata, crede di poter andare a dare ancora molto e quindi a questo punto credo che il suo fine carriera sarà molto simile a quello di Alessandro Del Piero. C'è Major League Soccero, magari campionato australiano, Cina, insomma mete esotiche per chiudere una carriera straordinaria, una carriera che da 18 anni per De Rossi è sempre stato solo alla Roma. De Rossi che quest'anno è stato frenato spesso dagli infortuni però il giocatore ritiene di poter andare a giocare, andare magari all'estero per poter far vedere di poter essere ancora utile alla causa della sua nuova squadra. Andiamo però a sentire il parere su De Rossi, su come è terminata l'avventura di De Rossi alla Roma da parte di Massimo De Luca che è intervenuto a Maracanà. Le bandiere sono sempre più rare e la main a bandiera è sempre più difficile e trovare il modo per ammainare queste bandiere è sempre più difficile. La Juventus non l'ha mai trovato per Del Piero, non dimentichiamoci, non c'è mai stata né una partita d'addio, né una cerimonia, né un saluto e non stiamo a indagare perché, ma è evidente che i rapporti non dovrebbero essere più ottimali. La Roma ha saputo dare un'enorme e combovente dignità alla main a bandiera di Francesco Totti nell'ultimo atto, cioè nella partita dell'addio che tutti ricordiamo che ha commosso tanti tifosi anche non romanisti, ma, come ben ricordiamo, non ha saputo gestire più di tanto la fase immediatamente precedente della main a bandiera. Qui entriamo nel discorso Spalletti-Totti che ha vissuto vari momenti e poi c'è stata anche alcune parole di Totti nella sua biografia. Ed eccoci a De Rossi, diciamo la verità, oramai ci aspettavamo un po' tutti per le condizioni fisiche, non tanto per l'età che naturalmente è una componente, perché la stagione travagliata che ha avuto Daniele testimonia che il fisico è ormai al limite dell'usura, probabilmente per sostenere una continuità di presenza in un campionato teso e competitivo come è quell'italiano. Non bello come altri, ma certamente teso e competitivo. Quindi il discorso secondo me ci poteva anche stare, forse come al solito potevano esserci dei modi un po' diversi. Allora, poco fa discutevamo della possibilità di De Rossi di andare a giocare all'estero, in particolare nella MLS. Questa è un'eventualità che De Rossi sta prendendo in considerazione con il New York City in press, come leggiamo dalla pagina di tuttomercatoweb.com, ma c'è anche chi sostiene che De Rossi in fondo potesse essere utile al nuovo allenatore della Roma. Magari un Gasperini che arriva alla Roma ha bisogno di un punto di riferimento, di un uomo guida del gruppo e De Rossi poteva assolutamente rispondere a questo identikit. Sì, sono d'accordo che comunque lo sappiamo quanto possa influire ancora De Rossi all'interno dello spogliatorio, ma poi non ci dimentichiamo che nelle partite chiave quest'anno De Rossi è sempre stato utilizzato. Cioè De Rossi era ancora un cardine imprescindibile per l'11 titolare della Roma di Di Francesco e anche di Ranieri. Poi è chiaro, fisicamente lo abbiamo detto, lo abbiamo sentito anche dal contributo De Luca, De Rossi chiaramente non è più quello di una volta e non è neanche un 36enne che è sempre stato bene, perché comunque non è vecchissimo. Abbiamo parlato della conferenza stampa del calcio di Pellissier non più di 4-5 giorni fa e lì si parla di 40 anni, 4 anni in più rispetto a De Rossi, però tornando proprio al De Rossi giocatore è stato un punto fermo della Roma di quest'anno e sicuramente sarebbe servito anche in campo. Chiaramente sarebbe servito molto di più anche per l'allenatore che verrà, giustamente lo hai detto Lorenzo, perché sappiamo il peso di De Rossi all'interno dello spogliatoio, sappiamo quanto la squadra, i giovani vadano dietro a Daniele De Rossi e anche per i nuovi acquisti, coloro che arriveranno in estate, trovare un De Rossi sarebbe stato sicuramente più semplice dal punto di vista dell'adattamento e del capire che cosa significa indossare la maglia della Roma. Eh sì, non c'è dubbio. Adesso restiamo sulla Roma e parliamo anche della possibilità di arrivare alla quarto posto da parte di Giallorossi, il futuro, l'allenatore che verrà. Abbiamo ascoltato a questo proposito il parere di Franco Superchi, ex sportiere giallorosso. E' complicata pure alla Roma, la Roma ha il pareggio con Genova, l'ha voluto devia tanto. Ma lei l'avrebbe data per la prossima stagione una chance a Ranieri? Bah, dimostra di essere bravo, però io non lo so, c'è stato già, l'hanno ripreso, evidentemente ci credono, però... Però per il prossimo anno chi le piacerebbe? Si parla di Gasperini per esempio? Eh, Gasperini è all'avanguardia, perciò è un allenatore bravo, perché come gioca l'Atalanta penso che non ci gioca nessuna squadra di Serie A. Quindi in ogni caso meglio un italiano comunque rispetto a uno straniero? Sicuramente sì. Cragno le piace per il futuro, per la porta della Roma? È un bel portiere, è un bel portiere. Perciò, beh, oddio, meglio di quello che c'è adesso sicuramente. Di Mirante ma non soldato? Mirante ha fatto il suo e bene, Mirante ha fatto il suo bene. Quest'anno però ha sbagliato la scelta del portiere della Roma, il sostituto di Olsen? Mi è sembrato un pochino, no, non mi è sembrato tanto all'altezza della Roma diciamo. Eh sì, insomma, Olsen ha lasciato più di un dubbio, non a caso Ranieri a momento del suo arrivo ha cambiato il portiere e ha lanciato Mirante che ha fatto certamente meglio di Olsen. Adesso parliamo dell'Inter che è tornato al terzo posto dopo la vittoria di ieri contro il Chievo, ma tiene banco il caso allenatore perché sembra sempre più vicino l'approdo di Conte per la prossima stagione. Conte che dovrebbe firmare, salvo colpi di scena, il contratto che lo legherà a Inerazzurri, in un contratto di tre o quattro anni con un ingaggio di 8-9 milioni di euro più bonus. Dunque un Conte che in attesa di quello che avverrà per quello che riguarda il contatto tra Agnelli e Allegri sembra aver scelto l'Inter. Sì, intanto domani ci sarà questo incontro ufficiale in casa Juventus. Agnelli e Allegri si capirà se Allegri sarà il prossimo allenatore della Juventus oppure no. A questo punto è difficile pensare che da questo incontro possa ancora dipendere il futuro di Antonio Conte perché Agnelli in queste settimane ha fatto capire anche i suoi collaboratori a Nedved, ad esempio, che di fatto ha raggiunto un accordo con Antonio Conte che non vuole ricucire quello strappo del 2014 quando Conte al ritiro iniziato decise di andare via dalla Juventus, lasciando anche la Juventus in una situazione difficile. Poi ci fu la scelta Allegri e fu una scelta felice, indovinata, ma anche negli anni successivi i continui botte e risposta tra Agnelli e Conte, segnali evidenti che quel rapporto non si è ricuscito. Quindi Conte verso l'Inter dove c'è Giuseppe Marotta, suo mentore alla Juventus con cui ha già un accordo di massima, un Conte che adesso tifa Luciano Spalletti che deve conquistare ancora tre punti di fatto per dare all'Inter la matematica certezza di una partecipazione alla prossima Champions League. Ieri Spalletti alla domanda del nostro Alessandro Rimi in conferenza stampa mi è sembrato molto nervoso, Rimi il nostro inviato di tutto mercato web gli aveva chiesto proprio di queste continue voci su Conte, Spalletti ha fatto capire di essere un po' stufo, però è la realtà dei fatti di un Inter che sta preparando la prossima stagione con Conte in panchina, con un mercato molto importante e a Spalletti in questo momento chiede solo di qualificare la squadra alla prossima Champions League e poi tanti saluti. E allora su Spalletti, su Conte, sull'Inter della prossima stagione sentiamo Claudio Merlo, ex calciatore nerazzurro che parla anche del campionato in generale. È stato un campionato molto scialbo perché una Juventus così forte che a metà campionato già aveva vinto lo scudetto è stato un campionato insignificante così, si lottava solo per il secondo e terzo e quarto posto e il quinto per la Coppa Europa, per le altre cose è stato un campionato bruttissimo, anzi io non l'ho visto quasi mai, vedevo sempre le squadre inglese. Il ex interista invece cosa pensi del campionato di Nerazzurri con Spalletti che è stato criticato a più riprese, il caso Icardi? L'Inter penso che vada nella Coppa dei Campioni così, poi anche nell'Inter sono stati Icardi che ha giocato pochissimo, la moglie che sta sempre nuda sui cosi, perciò hanno dei problemi fuori, però dentro penso che l'Inter ormai in Coppa dei Campioni ci possa andare. Ma Spalletti secondo te è giusto che venga sostituito con Conte perché sembra essere questa l'ipotesi più probabile? Ma non lo so, io penso che Spalletti fino adesso abbia fatto bene quei giocatori a sua disposizione, quest'anno ha fatto un pochettino meglio, io penso che Spalletti è un buon allenatore, poi se vogliono Conte e loro pensano che con Conte possono vincere sia lo scudetto che la Coppa dei Campioni allora prenderanno Conte, ma è difficile in Italia vincere la Coppa dei Campioni e lo scudetto con una Juve così. Però Conte può dare qualcosa di più secondo te? Non lo so perché anche Spalletti è un allenatore che insomma come carattere, tipo Conte, non lo so, Conte ha più esperienza internazionale penso, ha vinto dove è andato, ha vinto, se prendono Conte fanno un grande affare, ma Spalletti io penso che possa dare ancora tanto all'Inter. Tornando anche all'atteggiamento di Spalletti, al suo stato d'animo, è difficile per un allenatore riuscire a convivere tutti questi mesi con l'ombra di Conte? Sì, sicuramente sì, anche perché dobbiamo dirlo sinceramente, allora è vero che nelle griglie di partenza di questa Serie A mettevamo l'Inter davanti al Napoli e probabilmente ci aspettavamo tutti un qualcosa di più da parte del club nero-azzurro, però la richiesta della società Inter a Spalletti in questa stagione, così come nella precedente, era quella di qualificarsi in Champions League. Al momento Spalletti è dentro la Champions League, è terzo in classifica, l'ha detto giustamente Raimondo, deve fare tre punti nelle prossime due partite per staccare il passo e potrebbe anche bastargli nemmeno qualora non dovessero vincerle tutte e due il Milan e la Roma. E quindi Spalletti ha fatto il suo lavoro e ha dovuto gestire un caos sicardi veramente difficile da gestire, quindi lui il suo lavoro secondo me lo ha fatto molto bene, quindi pensare di avere già il sostituto nonostante tu vada a raggiungere gli obiettivi e tu riesca a far rientrare un caos o caso Icardi, così come è stato ieri titolare, insomma Icardi è tornato ad essere un giocatore dell'Inter a tutti gli effetti, è chiaro che ti crea qualche problema e qualche pensiero in più, quindi è capibilissimo il pensiero di Luciano Spalletti che ha anche detto ieri, è giusto che Marotta vada a cercare il meglio per l'Inter e quindi diciamo che una frecciatina anche a Marotta l'ha voluta lanciare. In 30 secondi chi ha il quarto posto tra Milan, Atalanta, Roma? È difficile da dire, l'Atalanta molto dipenderà da come uscirà anche dalla sfida di domani, il Milan ha il calendario più semplice rispetto alle altre due, però la Roma si è rilanciata alla grande dopo l'ultima vittoria contro la Juventus, era la gara più difficile. Quindi l'Atalanta è il vantaggio dei numeri che a due giornate dalla fine può essere tutto perché manca davvero poco, però attenzione a come finirà la Coppa Italia perché credo che inevitabilmente quella gara avrà degli strasci che anche sull'impegno successivo che non sarà un impegno semplice, a Torino contro la Juventus, dalle prossime due gare paradossalmente passerà la stagione dell'Atalanta che già è ottima, può diventare straordinaria ma potrebbe anche tornare buona. Parliamo anche della lotta a salvezza perché l'Empoli in gran forma è terzo ultimo, però Paul vuole provare a vincere tutte le due restanti partite, quelle contro il Torino e l'Inter e dietro in coda iniziano a tremare il Parma, l'Udinese ma soprattutto anche la Fiorentina e il Cagliari che sono a 40 punti. Sì, è un Empoli che sta facendo tremare un po' tante squadre perché le ultime due vittorie consecutive hanno rilanciato in tutti i sensi la stessa Empoli di Orele Andreazzoli, hai detto i prossimi impegni dell'Empoli sono impegni difficili, quindi è molto complicato per la squadra toscana, serve veramente un miracolo perché comunque il Torino è in piena lotta per l'Europa, l'Inter chissà come uscirà dalla gara contro il Napoli, potrebbe anche non aver più niente da chiedere, l'Inter però deve vincere prima contro il Napoli qualora non vincesse l'Inter è chiaro che sarà ancora più difficile per l'Empoli, detto questo Genoa, Udinese, Parma, il Parma sembrava salvo veramente tantissimi mesi fa e invece è stato risucchiato per non parlare della Fiorentina che sta vivendo ancora non un dramma ma si potrebbe concretizzare veramente un dramma clamoroso per quel che riguarda la squadra di Vincenzo Montella che da quando è arrivato ha pareggiato col Bologna e poi le ha perse tutte, quindi diciamo c'è una grossa bagarre, tutto dipenderà dall'Empoli ma se l'Empoli dovesse riuscire a vincere le prossime due partite secondo me potrebbe esserci una vittima illustra. Eh sì, parliamo della crisi della Fiorentina, allora abbiamo sentito il parere di Salvatore Esposito che tra l'altro è stato uno dei protagonisti della vittoria del secondo scudetto Viola. Ma fino a cinque partite fa no, io credo che il discorso Pioli abbia influito molto, che questa squadra era molto legata all'allenatore, io ho visto la partita l'altra sera e mi sembrava una squadra impaurita, non ha nessun problema di classifica però è una squadra impaurita. Quindi la retrocessione che è uno spettro di cui si sta parlando in queste ore lo allontani con forza? Ma non esiste, se guardiamo anche il calendario sarebbe, deve andare tutto al contrario di quello che pensa la Fiorentina, non credo. Però come si riparte in questa situazione, il prossimo anno la Fiorentina con quale spirito e soprattutto da che basi riparte? La Fiorentina parte dal discorso di una squadra giovane, con degli elementi giusti potrebbe fare secondo me un buon campionato perché la Fiorentina quest'anno è mancato principalmente in mezzo al campo. Se tu non hai il centro campo è difficile giocare pallone. Però come si può ricucire? Se si può effettivamente ricucire il rapporto tra la città e della valle oppure secondo te è tutto finito tra i della valle e Firenze? Io non credo perché conosco i tifosi della Fiorentina, tu lo sai bene, vivo a Firenze, sento gli umori e il resto. Basta poco che il tifoso è sempre vicino a questa squadra. Sì, però in questo momento la critica è pesante. Anche negli anni scorsi hanno contestato i cecchi cori, hanno contestato i punteri. Però probabilmente questa lettera di Diego della Valle potrebbe aver creato una divisione definitiva. Ma io mi auguro di no. Spero e mi auguro di no. Raimondo De Magistris, in 20 secondi questa Fiorentina rischia quanto secondo te in percentuale? Poco, 10-15%, però credo che la sfida decisiva sarà Empoli-Torino. Perché è una gara molto difficile per la squadra di Andrea Azzoli, perché il Torino è una delle squadre più in forma, ma dovesse l'Empoli spuntarla e a quel punto la Fiorentina dovrà darsi una mossa e una sfida altrettanto difficile, perché il Parma, dopo la sconfitta col Bologna, ha la necessità a sua volta di conquistare i punti. Allora, intanto ringrazio Raimondo De Magistris e anche Lorenzo Di Benedetto, però abbiamo parlato dei rischi che corre la Fiorentina. Qualche rischio lo corre anche il Cagliari che ha gli stessi punti della Fiorentina. E allora, sui pericoli per la squadra di Maran abbiamo sentito il parere di Andrea Pisano, ex calciatore rosso-blu, e con le parole di Pisano noi ci salutiamo. Io dunque vi ringrazio per averci seguito. Con la vittoria dell'Empoli ieri a Genova si è un po' complicato tutto per tutte le squadre, non solo il Cagliari, dal Cagliari Parma, Bologna, tutte quelle che stanno sotto, e anche la Fiorentina, c'è sempre quell'1% imprevedibile dove un campionato può essere deciso all'ultima giornata. Sono tutte in ballo e saranno tre giornate veramente divertenti da vedere. Per quanto riguarda il Cagliari, che campionato è stato? Secondo te poteva fare qualcosa in più. È stato sfortunato per parlare delle ultime giornate, magari anche per come è andata a finire con il Napoli, con quel rigore molto discusso e discutibile. Sì, è stata una stagione per il Cagliari, un po' alti e bassi, però comunque credo che sia in linea in quello che doveva essere il suo campionato. È normale che una squadra che si deve salvare, basta dei momenti difficili dove magari per qualche mese fai fatica a trovare la vittoria, però alla fine l'obiettivo era quello di tenere la categoria e ci sta lottando. Maran è l'uomo giusto anche per andare avanti con questo Cagliari, è stato prolungato a lui il contratto? Sì, ho letto, ho sentito che anche un alattore è molto preparato, lui ha anche esperienza, ha già fatto esperienze in squadre che stiamo a salvare. Vedremo, vedremo soprattutto cosa succederà l'anno prossimo con il calciomercato. Il Cagliari ha alcuni giocatori che sono molto appetibili, da Barella, Pavoletti, quindi non è facile per un allenatore ogni anno ripartire con nuovi giocatori, vedremo, vedremo cosa fa il Cagliari. Grazie a tutti!